totalmente diverso con le stesse caratteristiche ma diverso faranno uscire una box a settimana tipo di io voglio solo quella delle rx anche perché di altri fucile cioè con l'rx ho 18.000 kill quindi ora mi faccio le 10.000 del carco io l'oro da tu come io ci gra no screen